Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi, benvenuti alla rassegna stampa in diretta su Fano TV 7 e 45, sfoglieremo i quotidiani come tutte le mattine, ma prima il santo del giorno E poi il meteo, oggi è San Giovanni di Dio, sabato 8 marzo, il sole è sorto alle 6.32 e tramonterà alle 18.05 E allora vediamo il tempo, che cosa ci aspetta in questo weekend, le previsioni per oggi Il cielo è nuvoloso al mattino, in particolare nelle zone interne e nel settore centro-meridionale della regione E nel pomeriggio ci saranno delle attenuazioni, comparsa anche delle nevicate al di sopra dei mille metri Però le piogge, vedete, si concentrano più che altro nel settore centrale della regione Vediamo domani, domenica, il cielo sarà un po' meno nuvoloso di oggi Con qualche addensamento però a ridosso dei rilievi, quindi nelle zone dell'entroterra Sulla costa non ci sono previste precipitazioni, però i valori minimi delle temperature scenderanno Vedete, mezzo e mezzo Lunedì invece, ecco, il sole risplende, sereno e senza nessuna precipitazione Vediamo le temperature, Urbino 6 e 9 gradi, Pesorefano 8-12 gradi, quelle previste per oggi Quelle invece previste per domenica, più o meno le stesse, vedete, si riflettono E allora, oggi è l'8 marzo, si rende omaggio alle donne e quindi partiamo dal di qui Lucia Annibali va a Roma e riceve l'onorificenza il cavalierato E quindi, una donna coraggio, simbolo riconosciuto dalle istituzioni Una mattinata impegnativa, quella di Lucia oggi Perché stamane va al Quirinale e poi incontrerà la Boldrini E a sorpresa arriva anche la telefonata di Renzi nei giorni scorsi Appunto vedrà il Premier, ma al di fuori dell'ufficialità In continuo aumento, però, le donne che si rivolgono al centro antiviolenza Quello di Pesero parla con noi Un allarme in occasione dell'8 marzo viene lanciato dall'assessore provinciale alle politiche sociali Daniela Ciaroni, quindi insomma un allarme, quello della violenza sulle donne che non è mai sopito E in questo giorno, anzi, se ce ne fosse, insomma, la necessità viene rimarcato ulteriormente E quindi che cosa si può fare in questa giornata? Meno strip maschili e più alte Ecco tutti gli eventi della giornata Una maratona di lettura in Baia Insomma, sono tante le occasioni C'è un flash mob in Piazza del Popolo appeso alle 17.30 Questo incentrato sulla violenza Musei civici Al Teatro Rossini anche ci sarà una performance dell'attrice Lucia Ferrari Insomma, tanti momenti per festeggiare nel modo più consono possibile E dall'Inail arriva anche un segnale positivo perché sono calati nel 2013 gli infortuni al femminile nel mondo del lavoro Quindi, insomma, sicuramente un dato importante E poi la sanità che ha tenuto banco anche in questi giorni Vediamola L'ospedale, sapete che sono in arrivo tanti soldi dall'assessore regionale Mezzonali indichiarato Insomma, che arriveranno i fondi per rimettere a posto gli ospedali Però c'è una voce critica Solo Pesaro E dice c'è una delibera fantasma anti San Salvatore Quindi anti ospedale di Pesaro L'ospedale è sabotato E vengono chieste le dimissioni di Mezzolani e di Alto Ricci Queste sono le dichiarazioni della compagine di Solo Pesaro Vedete nella foto Alessandro Fumanti L'esponente candidato a sindaco di Pesaro Accuse gravissime Altro che 6 milioni di euro Chiusi reparti per Pesaro Per puntellare il Santa Croce Il Santa Croce di Fano E quindi, insomma, una diatriba continua Quella tra Fano e Pesaro e i suoi ospedali E poi una bella pagina del sociale Un'associazione che si chiama Braccia Aperte Promuove un progetto unico a livello nazionale Fano è la capofila di questo progetto Per le detenute di Villa Fastigi Corsi di formazione Uno in particolare Le detenute studiano per diventare segretaria E vedete nella foto l'esponente di l'associazione Braccia Aperte E quindi sicuramente una pagina bella del sociale Andiamo a Fano Rimaniamo sempre nelle pagine del resto del Carlino La politica E in centro pagina Aguzzi lancia Cucuzza contro Mirko Carloni L'imprimatur ieri del sindaco Ma dentro la lista Lattua Fano Ci sono un po' di mal di pancia Un po' di malumori E allora il sindaco fa un po' Tutta la sua dichiarazione Il gioco Una candidatura che vede al centro della guerra Il vessillo anche di Forza Italia Quindi insomma una guerra in testizia E poi c'è chi gode sulle cene del centro-destra In particolare l'ex assessore Severi In un'emittente radiofonica cittadina Ha indicato Aguzzi come il colpevole Dell'assoluto disastro in corso in questo momento Nel centro-destra E poi la fusione di Aset si inceppa Il sindaco in colpa Marino e Compani Qual è il bilancio? Stiamo rischiando il fondo Stiamo raschiando il fondo del barile Ma non vogliamo aumentare le tasse Molti servizi secondo il primo cittadino Vertici vicini al centro-sinistra Tutto rischia di saltare Al dopo elezioni Rimaniamo a Fano E sapete che Renzi ha mandato delle missive Ai sindaci delle città Dicendo indicatemi la scuola che volete E io ve la rimetterò a posto E allora Renzi domanda E Fano risponde E quindi l'amministrazione ha scelto La padalino al collegio Sant'Arcangelo Da rimettere a posto È una priorità Questa per la città Soldi Quanti ne servono? Ne servono circa 3 milioni di euro Per rimettere a posto questa struttura Nel cuore della città E poi Sanchioni Futuro incerto Non si conosce ancora Quale sarà lo sviluppo della sua vicenda Sia dal punto di vista politico che anche personale E poi ancora su Fano Si avvicinano le scelte dei giovani Che escono dalle scuole medie E vanno alle superiori E allora viene premiato il lato creativo dei giovani Il boom dell'Apolloni La scuola Apolloni Gode di un momento di fulgore Perché molti fanno questa scelta Quali sono le scelte Perché sono condizionate Quali sono i valori che condizionano la scelta dei ragazzi Il mestiere Il problema di avere nelle mani da subito un mestiere E quindi insomma anche la scuola tecnica Come il Battisti Potrebbero addirittura formarsi 5 prime con altri soli 5 ragazzi che si iscrivono Quindi insomma un boom anche di questo istituto tecnico E anche il fattore soldi purtroppo condiziona lunghi studi E quindi la frequentazione di università Sta penalizzando soprattutto il liceo classico A pesare è l'incertezza economica Lo scientifico è una scuola sempre trainante E sono in aumento anche gli studenti in questo momento E poi le scritte neonaziste che sono comparse al liceo scientifico Vanno avanti le indagini Cambiamo testata Andiamo nel Corriere Adriatico Apriamo la pagina di peso del Corriere Adriatico Attenti all'economia dello zero virgola Lo dice il presidente Tonti Sui dati congiunturali Centro Studi di Confindustria Di che c'è attenzione Cosa vuol dire l'economia dello zero virgola Cioè questi valori così risicati Uno zero due, uno zero quattro, uno zero cinque Insomma sono dati che si mettono in risalto Un imperceptibile miglioramento Ma urgono strutture, misure per la ripresa Quindi non lasciamoci ingannare da queste piccole cifre Perché sicuramente il momento non è florido Però una fiebile ripresa c'è Il San Salvatore entro il 2015 sarà declassato Abbiamo visto anche prima Quindi la sanità bollente E bisogna capire qual è il progetto regionale Per la sanità della nostra provincia Andiamo ancora sulla pagina Il progetto di riqualificazione urbanistica Ce ne sono tanti che vogliono riqualificare le aree della città E saranno presi in considerazione progetti privati Ceriscioli dà il via libere Le ristrutturazioni anche dell'Oden Della nuova, dell'area nuova E le zone di via Toscana, Serra e Milano Rimaniamo sul Corriere Pagina di Fano Ecco la questione inerente alla politica Sanchioni sono ore decisive per lui Cosa farà? Intanto ha fatto questa dichiarazione Un commosso addio Ha uniti per Fano Gli interessi di Chiara della città Vengono prima dei miei Resto alla guida della lista civica Che ho fondato E quindi un addio con l'amaro in bocca Quali sono le alternative? Cucuzza o del vecchio? Sceglierà l'alleanza Quindi una politica in fermento E la risposta anche di Lucia Salucci Di Forza Italia A quanto affermato dal sindaco In questi giorni E dice appunto parole gravissime E ha emanato anche un comunicato in risposta E poi La pagina della viabilità Fano Il record di cartelli Lo vince via Cavour Una foresta praticamente Perché sono 140 E un poco più di 100 metri Quindi insomma sicuramente Uno spettacolo poco edificante Poco bello Dal punto di vista anche così Di immagine E poi bene comune Oggi un convegno sull'energia Alle 17 a Fano Per fare il punto sull'energia E allora Anche il Corriere Fa una pagina Dedicata all'8 marzo Alle donne E allora Un esempio Sicuramente Per festeggiare in modo Congro Questa giornata Leggere un libro Il libro è quello di Roberta Servadio Una giovane donna fanese Che ha passato Momenti sicuramente Poco piacevoli Per un destino crudele E ne ha ricavato Un momento positivo Perché ha scritto Un libro La sua testimonianza Per sconfiggere la malattia Perché io Sono Io sogno forte E quindi sogna Praticamente In maniera Molto decisa Il suo libro È stato pubblicato Da Mondadori Ed è un'iniezione Di fiducia Per tutti quanti Mimose E danza Nel segno Appunto Della donna E poi Avete visto In questi giorni di carnevale Molte vetrine cittadine Insomma Dipinte E adornate In maniera festosa Sul carnevale Chi è l'autore Di queste belle vetrine È un fanese D'adozione Un artista Massimo Pierangeli Viene da Macerata E ha ravvivato Tante vetrine Cittadine E continueremo A vedere Le sue opere Perché Si è espresso Anche in maniera positiva Per la Pasqua E quindi Rivedremo le sue opere Nelle vetrine Ancora Dall'interno Quindi Dalla Val Cesano Una proposta Per unificare Tre comuni Insieme Con un'identità Più forte Anche la Confesercenti Sostiene la proposta Del Partito Socialista Di unificare Mondolfo Monteporzio E San Costanzo E quindi Questa è una proposta Andiamo a Senigallia Anche la vicina Senigallia C'è una demolizione Controllata Per un'area Che Sarà adibita A parcheggio Cittadino Verrà demolita Una ciminiera Useremo Attrezzature Con filo Damianto Diamantato Il sindaco Dice Questa è un'area Che sarà destinata Alla sosta Verrà collegato Un ingresso pedonale A via Mamiani E in piazzale Nino Bixio Quindi una buona notizia Per quanti Vanno a Senigallia O i cittadini stessi Che hanno problemi di parcheggio Cambiamo testata Andiamo sul Messaggero 8 marzo Il giorno di Lucia Sanchioni Centropagina Il meteo Domani Ritorna Il sereno Andiamo alla pagina Di Fano Del Messaggero Sanchioni Lascia Passo doloroso Da Carloni Una coltellata Alla schiena Quindi parole Forti Potrebbe Comunque Scegliere di Continuare A correre da solo Con la sua lista E la tua Fano Propone Del Vecchio E Cucuzza Centrodestra La notte dei lunghi coltelli Come si dice Si consumano i giorni Dell'ira La tua Fano Dopo aver sfiduciato Daniele Sanchioni Propone Cucuzza E Davide Del Vecchio Dell'Udc Bene Con quest'ultima pagina Del Messaggero Di Fano Chiudiamo questa Rassegna Stampa Un augurio Personale A tutte le donne Una giornata Di riflessione Non solo di festa Perché la strada A questo riguardo È ancora lunga Da percorrere Bene Buon sabato a tutti voi La Rassegna Stampa Torna lunedì mattina Alle 7.45 Grazie a tutti